Bene, buongiorno a tutti. Abbiamo ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Buongiorno Pacifico. Buongiorno a tutti voi. Pacifico, si è appena conclusa questa sessione di rinnovo dell'RSU d'Istituto. Cosa si può dire innanzitutto? Credo che non ci siano ancora risultati o comunque prove riguardo l'andamento delle lezioni, però si può fare già un primo resoconto? Il primo resoconto è un ringraziamento a tutti quelli che hanno votato. Hanno votato perché hanno votato comunque durante il Covid, durante il Covid abbiamo fatto lo stesso lezioni a scuola e quindi è stato un momento importante, un momento di democrazia, un momento anche di partecipazione. Alcuni sindacati non li avrebbero voluti, li volevano rinviare, noi invece avevamo insistito perché si facessero, già le avevamo rinviate di un anno. Quindi è importante che i lavoratori siano andati a votare, quindi ringrazio loro, ringrazio anche chi sta in questo momento mentre parliamo anche facendo lo spoglio e quindi tutti coloro che sono scrutatori all'interno delle commissioni. Noi come Anief ovviamente partiamo da un dato confortante, più 25% delle deleghe rispetto a quattro anni fa, però ora aspettiamo i voti e vediamo un po'. Certamente la sfida nuova sarà quella di entrare nelle scuole grazie alla firma del contratto che avverrà probabilmente in autunno. Anief potrà nominare un rappresentante sindacale in ogni luogo di lavoro, anche nell'università, nell'AFAM e nella ricerca. Ricordiamo che la soglia minima è del 5% per raggiungere la rappresentatività. L'ANIEF quattro anni fa l'ha superata per la prima volta, andando anche un po' a interrompere il predominio dei 5 sindacati che nella scuola ormai da un paio di decenni erano stabilizzati, che sono, ricordiamoci, GL, CISL, UIL, GILDA e SNALS, e poi dalla media delle iscrizioni, delle tessere sindacali, appunto Pacifico ci diceva che c'è stato un incremento del 25%, appunto l'esito delle elezioni si avrà poi questa nuova risultanza per il prossimo triennio, mi sembra, vero? Fino al 2024. Sì, infatti queste elezioni andavano, meglio ribadirlo, a verificare la rappresentatività per il triennio 2022-2024, mentre per il triennio 2019-2021, proprio per quel contratto che abbiamo denunciato come scaduto da 40 mesi, si sono tenute le elezioni anni fa e ANIEF appunto è stata dichiarata tra i sindacati maggiormente rappresentativi. Io mi soffermerei sul contratto che ha appena citato, ci sono delle novità in questo senso, Pacifico? Il ministro aveva detto che era pronto a riprendere il dialogo dopo la campagna elettorale, sempre un momento caldo, noi abbiamo inviato una lettera come ANIEF, abbiamo dimostrato e mostrato la nostra disponibilità a sederci al tavolo dell'Aran, abbiamo letto nel DEF che sono state stanziate delle risorse aggiuntive per il personale scolastico, vorremmo sapere di che cifre si parlano, speriamo che non siano già quelle poche stanziate nell'ultima legge di bilancio, questo perché? Perché gli stipendi negli ultimi 20 anni, io lo voglio dichiarare ancora una volta, negli ultimi 15 anni, cioè dal 2008, dall'anno del blocco, sono saliti del 3,48 con l'ultimo rinnovo, è con questo qua che ci approviamo a firmare ed è un altro 4%, quindi complessivamente saranno saliti gli aumenti del 7,50 quando sarà firmato il contratto scaduto, però l'inflazione è salita di 20 punti, quindi significa che i nostri stipendi sono lontano dall'inflazione, allora in un momento in cui i venti di guerra sono dentro l'Europa, l'inflazione è addirittura salita in maniera galoppante nell'ultimo mese, prima il Covid e poi l'inflazione, cioè noi non possiamo tollerare che si dica si spendono soldi in armi, ma gli stipendi devono rimanere fermi, ci vogliono risorse per gli stipendi, questo deve essere un punto fermo per ancorare l'inflazione e soltanto dopo possiamo parlare di Europa, anche se nel contratto ci sono altri temi risoluti, una per tutte, la parità di trattamento tra persone precarie di ruolo, noi siamo più che convinti che questi temi debbano essere rimessi nel contratto, come anche la rivisitazione delle classi, delle fasce per gli aumenti stipendiali. Per concludere, oggi si lavora a scuola dal nonno anno di servizio al ventisettesimo anno di servizio, cioè per 16 anni si hanno degli aumenti per anzianità, dopodiché per altri 25 anni, cioè dal primo al nonno anno e dal ventesettesimo anno di servizio al quarantatresimo, quindi per 25 anni si lavora senza un aumento, può essere scandaloso se si pensa che a volte si è lavorato per 10 anni da precari senza aumenti di stipendi. Certo, quindi ricordiamo il sistema degli scaglioni stipendiali automatici nella scuola che prevedono purtroppo l'abolizione del terzo anno dall'immissione di ruolo, questa è una manovra adottata nel 2011 per favorire delle emissioni di ruolo, poi l'ultimo scatto a cui si riferiva Pacifico al 35esimo anno, dopodiché lavorando anche altri 7 anni, si arriva addirittura a 43 anni di servizio, ecco è chiaro che c'è uno stipendio che insomma in qualche modo rimane bloccato ulteriormente. Pacifico, in pochi secondi, ma lei prima ha fatto riferimento a un aumento più sostanzioso, ma questo non creerebbe problemi con gli altri comparti pubblici, cioè perché la scuola dovrebbe rivendicare un aumento maggiore? Perché lo ha detto il governo a maggio, a maggio nel patto per la scuola, aveva sottoscritto da me, per nome della confederazione che rappresentavo, ha scritto il governo, ha detto che all'interno del pubblico impiego avrebbe trovato delle risorse aggiuntive per il personale della scuola, proprio perché si veniva dalla scuola, da una scuola al centro della pandemia, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, però non vorremmo che dopo un anno quelle fossero soltanto delle promesse, invece devono essere lì. Dovevano essere dei fatti, è passato ormai quasi un anno e in effetti di quel patto sottoscritto a Palazzo Chigi è rimasto praticamente ben poco, possiamo dire nulla. Allora, io avevo preparato alcuni temi, uno di questi è uno dei cavalli di battaglia del, possiamo dire, dell'ANIEF, i precari. Qual è la situazione in un minuto? Credo ci siano delle novità importanti anche a livello di giustizia europea, no? Negli ultimi mesi abbiamo avuto delle sentenze che fanno ben sperare. Sì, perché il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo il reclamo collettivo accolto dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali promosso da ANIEF, l'estate scorsa, ha imposto nel calendario del Governo di risolvere una volta per tutte il tema del precariato. Il Governo l'ha messo nel PNRR, è uno dei punti del PNRR, però deve risolvere questo problema della supplentità entro il 2022. Come? ANIEF lo ha detto semplicemente, ovviamente ci deve essere un tavolo col Ministro che è stato annunciato ma ancora non si è svolto. Noi, secondo noi, per i docenti la soluzione è semplicissima, basta utilizzare le gradatorie per le supplenze come per le GAE nel doppio canale di reclutamento per poter assorbire il precariato. E se c'è qualcuno non abilitato e ci sono in seconda fascia, basterebbe fare un corso abilitante per loro durante l'anno di prova e quindi dopo aver superato questo corso confermare il loro ruolo. In effetti il problema è importante e andrebbe risolto. Ricordiamo lo scorso anno a fronte di circa 112.000 immissioni in ruolo, ne furono poi realizzate meno di 60.000 e quindi parliamo della metà e gli anni precedenti andò ancora peggio, gli altri due anni questo significa che a fronte di un numero esteso di posti vacanti e disponibili poi non abbiamo i candidati per poterli coprire pur avendo il record di supplenze. È una contraddizione in effetti che va sicuramente affrontata e risolta una volta per tutte. Pacifico, a proposito di contraddizioni, viene una che riguarda i supplenti annuali, non hanno diritto, secondo la buona scuola, alla card per l'aggiornamento che equivale a 500 euro l'anno. Voi sindacati avete impugnato questa mancanza perché poi durante il Covid abbiamo visto che come, e più degli altri se vogliamo, l'insegnante giovane è sempre stato in prima linea, insomma è più anche, non dico nativo digitale, però sicuramente più propensa all'utilizzo delle nuove tecnologie, però paradossalmente non può accedere né all'acquisto né all'aggiornamento didattico. Ecco, c'è stata una sentenza che credo anche di un tribunale italiano che invece ha decretato il diritto ad avere accesso a questi 500 euro e anche degli arretrati importanti. Ci può fare il punto? Sì, quello è il tribunale di Torino che recentemente, facendo proprio una sentenza del Consiglio di Stato, che a sua volta citava la remissione in corte di giustizia europea da parte del tribunale di Vercelli della legge 107, laddove non riconosce anche al personale docente precario la CAR docenti, è un bonus di 500 euro che dal 2016 è erogato esclusivamente al personale docente di ruolo per, riguarda la formazione professionale, questo tribunale di Torino per la prima volta tra i giudici del lavoro ha rotto il ghiaccio, ma anche per la prima volta anche il Consiglio di Stato ripensando quelle sentenze che aveva negato negli anni passati, affermando che ai sensi del contratto vigente, in particolar modo degli articoli 63 e 64 del contratto, la disposizione normativa deve essere concessa anche al personale precario. Quindi questo significa che bisogna fare ricorso perché non è automatico il recupero delle somme? Purtroppo sì, ad oggi noi abbiamo avuto 3.000 adesioni in una settimana, già li stiamo assegnando ai vari avvocati che sono in convenzione con Anif nel territorio, però è una cosa importante, ma Alessandro il problema qui non riguarda solo la card, io vorrei ricordare che ai precari è negato il salario accessorio se supplente breve, un assegno mensile di 100 euro al mese, sono negati gli scatti di ansiedità del personale di ruolo, sono negati i risarcimento per l'abuso dei contratti a termine, è negato anche il pagamento delle ferie non godute, così come sono negati i permessi o i permessi retribuiti. C'è una serie di negazioni sul personale precario in particolare, solo con i tribunali purtroppo oggi, perché purtroppo? Perché il legislatore non cambia la legge, allora finché non viene cambiata la legge o fin quando non riusciamo a noi a cambiare il contratto, perché anche lì a sua volta poi c'è un problema di conflitto tra contratto e legge, l'unica strada è quella dei tribunali, e chi ricorre il tribunale ha migliaia di euro di risarcimento. Realisticamente, in una battuta, se un precario fa domanda anche per recupero dei cinque anni precedenti, quante percentuali di possibilità ha di vincerla questa causa? In questo momento il 100%, il Tribunale di Torino ha riconosciuto 3.000 euro di arretrati degli ultimi cinque anni, per questo abbiamo detto attenzione al 2016, perché in cinque anni c'è la prescrizione, a meno che, ripeto, il governo, il legislatore non cambia idea, lo estende per tutti e lì non c'è più bisogno, e sarebbe ancora di ricorrere. Sarebbe anche un impegno economico non indifferente, ecco, questo andrebbe, diciamo, in controtendenza rispetto a quello che è stato approvato alcuni giorni fa, abbiamo avuto un DEF purtroppo in deciso calo nel corso degli anni, a causa del decremento demografico, questo già si era, diciamo, avviato questo processo negli anni passati, ma questa volta il DEF 2022-2024 è particolarmente sfavorevole alla scuola, cosa possiamo dire su questo punto? meno 5 miliardi addirittura rispetto a quello, è stato pubblicato proprio in questi giorni, in queste ore, secondo me è un affronto, ma per ANIEF addirittura sarà una battaglia da fare nei tavoli, perché non si può a parole dire investiamo nella scuola, quando le scuole sono chiuse, poveri ragazzi, i ragazzi sono isolati, al personale non ci pensa nessuno, e poi quando in realtà garantiamo questo diritto all'istruzione, dimenticarsi di chi lavora nella scuola. Nella scuola lavorano 1,3 milioni di persone, ci sono 8,5 milioni di studenti, stiamo parlando di un pezzo del paese che va valorizzato, non puoi lavare i soldi alla scuola perché devi mettere i soldi nelle armi, prima metti i soldi alla scuola e poi se ne hai metti i soldi dove chi decide la politica e chi decidono gli elettori li dovranno mettere, ma sulla scuola non può essere una questione politica, i soldi si devono mettere perché sennò il paese se ne va. Pacifico, siamo in chiusura, lei ha preso una posizione molto rigida rispetto ai non vaccinati, in questi giorni in particolare i docenti sono rientrati attraverso il decreto legge 24 in servizio, ma c'è una stonatura doppia, potremmo dire, che lei credo che abbia contrastato e impugnato anche nei tribunali. La prima riguarda il servizio di questi insegnanti che non è compatibile con l'insegnamento, quindi abbiamo dei docenti, circa quasi 4 mila insegnanti che vengono assegnati a compiti non didattici e quindi tutto quello che riguarda appunto le attività della docenza, però insomma è veramente un po' molto limitante. Ma la seconda e quella che più ha fatto clamore è la disposizione di collocare, attraverso un'interpretazione anche dell'ufficio legislativo del ministro dell'istruzione, questi insegnanti su 36 ore settimanali. Ecco, su questo punto cosa ha da dire? Che è veramente assurdo. Noi viviamo in un paese dove per poter lavorare ti devi ammalare, cioè uno si deve ammalare di Covid per poter lavorare poi a scuola, perché se è sano, nonostante con un tampone, quando rientra a scuola non può fare il suo lavoro, per esempio dentro le classi. Questa è una cosa assurda, sulla sicurezza abbiamo sempre detto che i rimedi erano altri, quello di sdoppiare le classi, raddoppiare gli organici, recuperare plessi, ventilare le aule. Questo strumento non è stato quello adeguato e tuttavia lo governo continua a punire quegli insegnanti che la pensano come quei giudici che hanno rimesso in corte costituzionale per violazione di 11 articoli l'obbligo vaccinale. Allora, in questo momento noi riteniamo che questa punizione, la punizione sia diseducativa, non siamo in uno stato di polizia, non sta nessuno nelle nostre scuole punire, noi siamo lì per educare. E in questo momento chi ha un contratto di 30, chi sta facendo un lavoro per 36 ore, lo sta facendo perché il Ministero lo ritiene inidonia all'insegnamento. Non è così, il contratto parla chiaro, per essere inidonia ci vuole una visita collegiale, ci vuole uno stato di patologia che non ti permette di lavorare a scuola e in più a domanda si può essere utilizzati come personale amministrativo per 30 serie di servizio come l'oreo di servizio del personale amministrativo. Qui non ricorre niente di tutto questo, basti pensare che la metà di questi 4.000 è precario, ai precari non si applica il contratto degli inidoni, quindi per contratto, quindi stiamo parlando di un'interpretazione che non regge, si poteva benissimo interpretare il contratto prendendo la norma di chi rientra dopo il 30 aprile e rientra a disposizione anche lui del dirigente, ma non per 36 ore. Allora, basti ripensare pure che questo personale potrebbe anche fare la didattica a distanza e la didattica integrata. Allora, tutti questi elementi ci fanno pensare che è stata solo una punizione e noi non possiamo tollerare come sindacato che rispetti i diritti di tutti, quando anche fosse un solo singolo, i diritti vanno sempre tutelati e in più la scuola non ha più bisogno di divisioni, di un'ulteriore divisione. Ora, tra vaccinati e non vaccinati, l'è stato fatto pure verso gli alunni e anche loro ci hanno sofferto. Dobbiamo ritrovare invece serenità, dobbiamo ritrovare unità e dobbiamo discutere in punto di diritto, perché soltanto quando si discute in punto di diritto non si sbaglia e si può costruire una società più giusta, più eco e più solidaria. Bene, con queste parole di speranza e di nuova condivisione e di nuova condivisione anche con l'amministrazione scolastica, noi salutiamo Marcello Pacifico, presidente ANIEF e lo ringraziamo. Grazie, grazie agli amici di Tecnica e alle amiche di Tecnica della Scuola, dai direttori e direttrici anche a tutti quanti, un saluto a tutto il personale della scuola. Bene, ci diamo appuntamento ai nostri elettori, al nostro pubblico, alla prossima intervista sui canali di tecnica della scuola.it. Grazie. Grazie.